Salviamo il mercatino settimanale di Pian del Lago, questo l'appello del presidente di Confesercenti, Lillo Randazzo, all'amministrazione comunale che invita a rivalutare un vecchio progetto pensato in collaborazione con l'amministrazione passata per rilanciare il mercatino. Progetto che prevedeva lo spostamento delle bancarelle lungo il tratto stradale, lo sfruttamento dei due piazzali compresi tra lo stadio Marco Tomaselli a parcheggi che potrebbero essere gestite da cooperative di giovani con il pagamento di un prezzo simbolico per il posteggio. Un mercatino, quello del sabato, che rispetto ai tempi passati va perdendo smalto e che registra l'assenza di un centinaio di ambulanti sui 262 aventi diritto che preferiscono altri mercati nei comuni limitrofi piuttosto che quello nisseno. Vorrei ricordare a tutti che le proposte che stiamo facendo oggi, che è quella della ristrutturazione, riallocazione del mercatino, è una proposta che risale ai tempi di Campisi, dall'amministrazione Campisi. È stato fatto un progetto, il progetto era stato approvato dalle organizzazioni datoriali e dall'amministrazione comunale perché era d'accordo, un progetto tra l'altro fatto loro sul nostro suggerimento però è rimasto nella carta. Oggi assistiamo a 100 aziende circa mancano, noi ci dobbiamo chiedere perché. Lì c'è un problema anche dei parcheggi, i parcheggi non possono essere lasciati in questa città a mano a chiunque ha bisogno, diciamolo come la vogliamo, al di là che siano extracomunitari o sono italiani o sono francesi, sta di fatto che non è più possibile parcheggiare in questa città senza avere qualcuno che ti chiede i soldi. Capisco il bisogno però se noi invece andiamo alla riallocazione del mercato, le stesse persone secondo me cominceranno a frequentarlo di più perché vorrei ricordare a tutti che i mercatini sono gli unici calmieratori dei prezzi in Italia. I dati ci dicono che a livello nazionale gli ambulanti stanno aumentando i mercatini pure, i consumatori incominciano a rifrequentarli perché in effetti trovano la merce a basso costo in quanto magari hanno meno spese, trattano tutto quello che ha bisogno diciamo il ceto medio basso, così chiamiamo le cose col proprio nome. In questa città sembra che questo problema non esista, per cui noi chiederemo a giorni un incontro con l'amministrazione comunale, con l'assessore a sviluppo economico, perché al di là dei prodotti tipici sui quali siamo tutti d'accordo sui beni culturali, sul rilancio turistico, lo dico anche Presidente del Gallo, abbiamo dato molti soldi su questo, sono tutte cose che stanno venendo fuori e che quindi fra un anno avremo delle strutture turistiche un po' diverse rispetto a oggi, ma non ci dobbiamo dimenticare da tutto quello che è la nostra spina dorsale ed è l'ambulandato, il primo commercio è stato quello degli ambulanti, è storia questa qui, non possiamo noi far sì che 100 operatori non mondino più, andiamo alla riallocazione del mercato, eravamo già d'accordo per cui basterebbe una semplice riunione insieme al comandante delle legge urbane, all'assessore, al sindaco e procedere subito a questa riallocazione, il piano è fatto, non abbiamo niente da fare, solo un minimo di coscienza in più rispetto alle imprese che trascinano ogni giorno il carro di questa società.